Io nella mia scuola sento italiano perché quasi tutti italiani, pure con gli arabi sento che sono arabo e quindi mezzo arabo e mezzo italiano, mangio sempre la, come si chiama, la margherita. Eh sì, è bella eh, è buonissima, è bella e buona lo stesso, è bella e buona allo stesso tempo. Grande amore, come si scrive con? G, R, aspetta, lo so quella cosa, tipo gran, mettiamo? No, 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 è normale, è normale. Dicono che se hai una voce fantastica ma non hai carisma, puoi essere anche Pavarotti, ma non certo un rapper. Eh, siamo venuti in Italia da un anno, un mese così, eh, ho cominciato tipo a parlare, all'inizio parlavo inglese perché non parlo niente di italiano. Per esempio se sbaglio qualcosa mi dicono, no, questa è sbagliata, devi dire così, e quella è una cosa molto bella, pure lo dobbiamo fare, pure voi dovete fare questa cosa. Se qualcuno straniero ha sbagliato davanti a voi non dovete stare così, non dovete dire che hai sbagliato. Questa non si dice così, si dice in un altro modo. Insomma, il carisma c'era. Quando ti vedo penso a te come una stella, sopra i tuoi capelli il bello ti rende più bello. Se avete qualche idea, cambiamo. La parola siamo, è un po' difficile ma perché usano, che usano, usiamo? So, perché io pure parlo l'armo, quindi usiamo quello di... Aspiriamo? Sì. Tante persone scappano dalla povertà, scappano perché? Perché per cercare la libertà, scappano dalla guerra che distrugge la terra. Acid, sei pronto? Sì. Amore senza motivo. Per esempio, un esempio è... Tu sei italiano, buono, e tu sei razzista. Scusa, scusate, tu sei buono. No, no, è razzista, è razzista. Tu sei un Trump, è detto, quindi... Invece noi possiamo... Io sono rifugiato, io posso fare una cosa, se tu dici che io non posso entrare nel tuo paese, tu ti dici va bene, possiamo entrare. Alla fine io posso fare una cosa, che voi diventate amici e io vengo pure con voi. Pure è una cosa bella, eh? Tu non hai capito niente, tu Trump non capisce niente. Loro alla fine sono italiani, quindi possono essere amici, è perché io non vado con loro e facciamo tutti tre amici. Io non vado a vedere, loro non vado te dire.